Spionaggio contro spionaggio, tecniche investigative, di questo parliamo stasera alla scena del crimine. Si è aggiunto un nuovo ospite al cui do la buona serata, si tratta di Francesco Polimene, titolare della Polinet SRL del sito spiare.com. Un autentico guru in materia, possiamo presentarlo così? Sì, Roberto ne ha di cose da dire, ha portato la sua strumentazione, di cui fra poco parleremo, però presentiamo un po' la sua figura professionale. Come comincia questa che penso sia comunque iniziata come una passione? Sì, sicuramente tuttora è una passione. Io provengo dalla Polizia di Stato, dove ho prestato servizio per sette anni. Dal 1990, in cui mi sono congettato, ho iniziato parallelamente questa attività, proprio perché c'era una passione sulle varie tecnologie investigative, tecnologie in quel periodo sconosciute, perché tengo a precisare che un trasmettitore ambientale, una classica cimice, era grande come un pacchetto di sigarette. Oggi abbiamo raggiunto dimensioni di millimetri e perciò con il passare del tempo ho un po' girato, diciamo, l'Europa. Ho frequentato, dopo la caduta del muro di Berlino, ho iniziato a frequentare alcune persone che lavoravano per l'esercito dell'ex DDR, della Germania dell'Est, i quali trovandosi un po' così senza lavoro si sono messi in proprio e hanno aperto dei mini laboratori dove hanno cominciato a produrre appunto tecnologie molto ridotte e hanno chiesto magari il mio intervento per poterle, diciamo, esportare in questo caso in Italia. E da lì è iniziata, ecco appunto, una passione per la microelettronica. Non a caso proprio nella DDR è ambientato quel bellissimo film, Le vite degli altri, che racconta storie di intercettazioni. Roberta, veramente sono argomenti questi che comunque affascinano il grande pubblico. Indubbiamente sì, perché comunque, ripeto, è una problematica che sentiamo, sentiamo collettivamente. Non a caso, peraltro, in alcune occasioni personaggi poi di un certo rilevo, anche politico, e molti giornalisti comunque o telegiornalisti in qualche modo fomentano anche la paura di essere sempre sotto spionaggio. C'è stato un momento qualche tempo fa in cui la paura dell'intercettazione telefonica praticamente riguardava anche quasi la casalinga, insomma, che tutti pensavano di essere spiati e che spiare fosse una cosa assolutamente alla portata di chiunque. Girava la voce dei famosi sms autoinstallanti che poi in qualche modo trasformavano i nostri cellulari praticamente in microspie, trasmettendo qualunque cosa attraversasse le nostre conversazioni, sia durante la conversazione telefonica che durante la nostra vita, diciamo, senza il contatto telefonico. Per cui effettivamente molte persone si sono probabilmente un po' anche lasciate suggestionare da questo tipo di visione mediatica che veniva proposta, anche esagerando. Indubbiamente i numeri sono importanti delle persone oggi spiate, a vario titolo e da vari tipi di soggetti. Però indubbiamente c'è anche un po' una sorta di, se vogliamo, speculazione, indubbiamente che in certi momenti viene artatamente sollevata per far sì comunque che alcune tipologie di situazioni poi si modifichino in un senso o in un altro. Sappiamo che sicuramente ci sono una serie di persone sotto controllo telefonico, ad esempio, o ambientale in questo momento nel nostro paese. La classe politica indubbiamente è interessata da certi tipi di problematiche, ma è anche vero che probabilmente i numeri che sospettiamo poi in realtà sono inferiori, insomma, nel pratico. Peraltro anche in questo periodo abbiamo assistito a un'ulteriore vicenda mediatica che ha riguardato peraltro la governatrice del Lazio e che effettivamente ancora oggi non capiamo bene esattamente che cosa sia accaduto e quante microspie sono state trovate in questo ufficio e soprattutto chi le aveva lì posizionate. Per cui sono vicende che poi lasciano strascichi anche importanti successivamente perché c'è questa dimensione paranoica che in tutti noi c'è e che viene soleticata abbondantemente da questi argomenti. Sul quale chiedo un parere a Polimeni in qualità di esperto, non credo che sia stato coinvolto personalmente nella vicenda, dunque può darci un parere, diciamo così, super partes, a leggere gli articoli di giornale, a vedere i servizi televisivi, quindi un occhio però così attento come il suo, che idea si è fatto di questa vicenda? Parliamo della polverina e delle microspie rinvenute nel suo ufficio e nei locali della Regione Lazio ovviamente. Io purtroppo non ho potuto visionare il materiale rinvenuto, però ecco dalle immagini che ho potuto vedere dal telegiornale o da varie foto che sono state pubblicate sui giornali, ho dedotto che sicuramente la telecamera, non si può definire microcamera, è una telecamera abbastanza grande, attenuta a stagna, peraltro è una telecamera che si utilizza appunto in ambienti aperti, perciò non so come abbiano potuto, o chi l'abbia potuto installare, occultare dentro un ambiente, perché sicuramente è una persona non esperta. E invece il trasmettitore, la microspia, da quello che ho potuto vedere, è un trasmettitore diciamo molto comune, l'alimentatore, quella scatolina che hanno inquadrato, non è il trasmettitore, quella che hanno fotografato tutti, quello è un trasformatore che trasforma la corrente da 220 volt a 9 volt per esempio, per alimentare in modalità continua la trasmittente. Ok, e quel tipo di trasformatore, poi andremo a vedere per esempio un tipo che ho portato dietro io, è molto grande, perciò è un qualcosa di diciamo autocostruito, materiale proprio... Non sono presenze proprio degli ultimi ritrovati, questo è quanto ci dice Polimani stasera. Ovviamente sarà poi agli inquirenti capire e rintracciare i responsabili. E' uno spionaggio un po' da improvvisati quindi? Sì, sicuramente sì, uno spionaggio da improvvisati, mi fa specie che chi l'ha commissionato o chi l'ha installata non si sia procurato, che peraltro è anche semplice sul mercato ormai procurarsi tecnologie abbastanza evolute e miniaturizzate, parlando di microelettroniche appunto, ormai ripeto, trasmettitori ambientali raggiungono dimensioni di un centimetro, 8 millimetri e tranquillamente possono essere occultate all'interno di una tripla, cioè non una ciabatta che è molto più grande, una tripla che peraltro poi faremo vedere che ho dietro e di per cui sono rimasto un po' così sconcertato. A proposito della vicenda che ha coinvolto la Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, è emersa una parola chiave Polimeni, bonifica. Da quel giorno si è cominciato a parlare della bonifica, del fatto che non fosse stata fatta in maniera preventiva e poi successivamente evidentemente sì. Qual è la procedura normalmente in questi casi? Ad esempio l'opposizione centrosista ha detto ci meravigliamo che non sia stata fatta perché noi le facevamo periodicamente quando a governare era Marrazzo. Allora intanto bisogna mettere dei paletti, cioè una bonifica non ha senso farla se nel momento in cui la facciamo non c'è un evento. Io solitamente quando opero, opero sempre nel momento in cui c'è appunto un evento che può essere un consiglio d'amministrazione, una riunione particolare, un appuntamento, un pretesto per poter appunto ascoltare, spiare. Il fatto comunque di entrare in un nuovo ambiente di lavoro poteva presupporre l'opportunità di una bonifica? Benissimo, la bonifica. Teniamo presente che le microspie si possono installare anche per deviare i servizi di sicurezza interni o l'azienda che appunto svolge per la regione Lazio, in quel caso che è un ente governativo, servizi appunto di bonifica. Ma ciò non toglie che io possa installare una microspie in un ambiente sensibile e attivarne una seconda magari telecomandata, capisce? Perciò nel momento in cui noi andiamo a fare una bonifica troviamo la microspie. Perfetto, siamo tranquilli perché abbiamo bonificato l'ambiente, abbiamo rinvenuto tre microspie nel caso Polverini, ma ciò non toglie che ce ne può essere una quarta installata in standby e pilotata a distanza da un impiegato fedele, da dirimpettaio, non lo so, che nel momento opportuno in cui ci sarà quella riunione dove decideranno alcune cose molto importanti, verrà attivata e magari sarà attivata per mezz'ora, un'ora, tre quarti d'ora e poi verrà di nuovo disattivata. Ok, nel momento in cui andiamo a disattivare una microspia, quella è morta. Ci sono determinate strumentazioni che rilevano anche componenti elettronici passivi, le classi, le cosiddette microspie morte, ma è molto difficile fare quel tipo di bonifica in un ambiente completo, arredato con apparecchiature elettroniche e quant'altro. A questo caso la strumentazione che ha portato con sé a cosa? Questa strumentazione non rileva le microspie, diciamo, morti, dormienti.